benvenuti nella mia cucina oggi prepareremo insieme una pizza in teglia facilissima con lievito madre preparata la mattina e cotta la sera prima di cena allora vediamo come procedere allora io ieri sera ho tirato fuori dal frigo il mio lievito madre e l'ho lasciato a temperatura ambiente questa mattina alle 7 di mattina ho rinfrescato il mio lievito se siete in inverno i tempi sono molto lunghi quindi vi consiglio di rinfrescarlo molto presto la mattina e di metterlo dentro al forno con la lucina accesa se siete invece in estate potete rinfrescarlo anche alle 9 perché in un paio d'ore il lievito raddoppia ok detto questo ecco il mio lievito adesso è raddoppiato sono esattamente le 10 il mio in tre ore raddoppia e procedo con l'impasto vi do anche le dosi perché c'è qualcuno che mi chiede sempre di specificare bene le dosi allora per questa ricetta occorrono 120 grammi di lievito rinfrescato e raddoppiato quindi io questa mattina ho rinfrescato il mio lievito in questo modo 48 grammi di lievito 48 grammi di farina e 24 grammi di acqua ok il totale fa 120 che adesso vedete nel mio vasetto sono passate tre ore è raddoppiato procediamo con l'impasto le dosi che vi do sono perfette per due leccarde da forno quindi sono perfette per quattro persone sono due leccarde belle abbondanti allora ci occorreranno 300 grammi di farina numero 1 io uso questa qui delle farine magiche 300 grammi di semola rimacinata di grano duro e uso questa qui di cecco diamo una mescolata alle farine quindi nel complesso ci serviranno 600 grammi di farina se non avete queste che ho detto potete anche farla con la farina 00 con la farina zero se volete potete anche usare farine integrali io questa combinazione che vi ho dato è la mia preferita quindi semola più farina numero 1 secondo me la pizza con queste due farine è quella che viene più buona di tutte quindi mescoliamo le farine e andiamo ad aggiungere 460 grammi di acqua a temperatura ambiente poi aggiungiamo nell'acqua un cucchiaino di miele io uso questo qui biologico ecco qui ed infine come vi dicevo 120 grammi di lievito madre rinfrescato e raddoppiato lo prendiamo proprio così a pezzi e lo mettiamo dentro il nostro dentro l'acqua diciamo iniziamo a mescolare andando prima a sciogliere il lievito nell'acqua che insieme al miele inizierà ad attivarsi quindi riduciamolo in una specie di pastellina qui al centro dell'impasto ok dopodiché iniziamo a portare al centro la farina e iniziamo ad incordare l'impasto l'impasto come vedete è molto appiccicoso perché stiamo facendo una pizza ben idratata però voi non aggiungete farina mi raccomando è previsto che sia così non vi preoccupate rimaniamo per il momento nella ciotola così se avete problemi ad impastare sarà più semplice quando l'impasto inizia ad incordare aggiungiamo 15 grammi di sale sciolti in 20 grammi di olio evo e andiamo a mescolare adesso che l'impasto sarà più unto sarà ancora più semplice continuare ad ad impastarlo una volta finito l'impasto quando quindi avrà raggiunto una consistenza liscia e non grumosa lo lasciamo nella sua ciotola e lo copriamo con un coperchio e ci vediamo tra 20 minuti per iniziare a fare le pieghe quindi mettiamo il timer 20 minuti ok allora sono passati 20 minuti adesso iniziamo a fare le pieghe per questa ricetta ho scelto di fare le pieghe a tre se volete vedere gli altri tipi di pieghi sul mio canale nella playlist lievito madre consigli e ricette trovate un sacco di tipi diversi di pieghe allora cominciamo a fare in questo caso delle pieghe a tre prendiamo un lembo di impasto lo tiriamo bene verso l'alto lo pieghiamo e schiacciamo per bene poi giriamo la ciotola e continuiamo su tutto il contorno tiriamo e schiacciamo bene allora facendo in questo modo come vedete qui già si è creata una bolla solo toccandolo l'impasto incorpora aria e diventa più forte quindi si formeranno dei begli alveoli le pieghe servono proprio per dare forza all'impasto allora tiriamo e schiacciamo dobbiamo fare questa operazione tutto intorno finché l'impasto non diventa tenace quindi rende questa operazione non più facile a quel punto dobbiamo smettere di fare le pieghe perché ci sta dicendo basta pietà ok credo che questa sia l'ultima ok quindi tiriamo forte schiacciamo bene e poi diamo una leggera pirlatina quando abbiamo finito in questo modo schiacciando l'impasto sotto e tendendolo sopra ok fatta questa operazione ok sembra una mozzarella una vero allora lo riappoggiamo nella ciotolina lo copriamo aspettiamo 20 minuti e ripetiamo le pieghe poi ne aspettiamo altri 20 e le ripetiamo per la terza volta servono in tutto tre giri di pieghe a distanza di 20 minuti l'una dall'altra ok ci vediamo alla fine del terzo giro di pieghe ho fatto l'ultimo giro di pieghe come vedete facendole si sono formate già all'interno delle bolle adesso dopo l'ultimo giro ho preparato due ciotole con un filo d'olio visto che io farò due teglie è meglio dividere adesso l'impasto per non maneggiarlo troppo una volta che avrà raggiunto la sua levitazione ottimale allora rovesciamo l'impasto sul piano di lavoro leggermente unto visto che le mani unte ungiamo leggermente il piano di lavoro rovesciamo piano 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 l'impasto oppure ok ce l'appoggiamo lo dividiamo in due fate come faccio io con un tarocco con un coltello ok diamo una leggera pirlatina in questo modo e andiamo ad appoggiare i nostri due impasti in queste ciotoline unte ok adesso le copriamo con la pellicola con la pellicola di plastica e le lasciamo lievitare fino al raddoppio o comunque fino al tardo pomeriggio quando andremo ad appoggiarle sulla teglia dimenticavo di dirvi una cosa come vedete qui ho coperto con la pellicola di plastica i due impasti allora se siamo in estate potete lasciare tranquillamente le vostre due i vostri due impasti a temperatura ambiente io di solito li metto nel forno con la luce spenta così non ricevono degli sbalzi d'aria se invece siete in inverno se fa molto freddo mettete lì al calduccio quindi magari mettete sopra una copertina così l'impasto lievita meglio ci vorranno all'incirca otto ore ed eccoci qui con i nostri due impasti ben lievitati sono le sei quindi sono passate esattamente otto ore da quando li ho messi a lievitare voi regolatevi però guardando il vostro impasto quindi aspettate il raddoppio allora eccoli qui ci sono un sacco di belle bolle e siamo pronti per stenderli sulle teglie ungiamo le nostre teglie con abbondante olio di semi di girasole ho scelto questo tipo di olio perché rende la parte sotto della pizza più croccante poi adagiamo dolcemente il nostro impasto sulla teglia e andiamo a stenderlo vi faccio vedere come ecco qui il nostro impasto sulla teglia allora innanzitutto cominciamo ad allargarlo appena appena ok così cominciamo ungiamoci sempre le mani mi raccomando i polpastrelli ok allora spingiamo lungo i bordi prima perché io non voglio i bordi alti alla napoletana sono romana voglio fare una pizza in teglia alla romana quindi spingiamo i bordi per bene e poi cominciamo con i polpastrelli a spostare l'aria all'interno dell'impasto in questo modo e nel frattempo allarghiamo l'impasto andiamo verso l'alto e poi verso il basso poi tiriamo un po l'impasto verso l'esterno e ricominciamo con i polpastrelli cercando di essere dolci e delicati per non andare a sgonfiare tutte le bolle che si sono create ok piano piano allarghiamo l'impasto quelle più grandi probabilmente si romperanno ma poi tanto durante la cottura in forno vedrete che torneranno fuori allarghiamo bene l'impasto finché non raggiungiamo i bordi della teglia una volta finito di stendere l'impasto lo andiamo a mettere nel forno ancora per un'ora con la lucina accesa così farà una seconda lievitazione ed eccoci qui le nostre pizze hanno fatto anche la seconda lievitazione adesso siamo pronti per farcirle nel frattempo accendiamo il forno alla massima temperatura in modalità statica per scaldare il forno ci vorrà all'incirca un quarto d'ora e la cottura va fatta in questo modo condiamo le nostre pizze le inforniamo nella parte più bassa del forno a contatto proprio con la base del forno stesso e le teniamo 10 15 minuti all'incirca poi tiriamo fuori la pizza mettiamo i formaggi o soltanto se c'è qualcosa che si deve squagliare rimettiamo la pizza al centro del forno quindi nel ripiano centrale gli ultimi 5 minuti e la nostra pizza è pronta quindi andiamo a condire delicatamente io di solito preparo il pomodoro già con olio e sale mi raccomando stendetelo con le mani delicatamente per non rovinare le bolle e poi andate ad infornare eccola qui come vedete è bella bollosa ve la faccio vedere da vicino guardate che bella piena di bolle adesso aggiungiamo la mozzarella io ho scelto di mettere mozzarella di bufala e la rinfiliamo al forno gli ultimi 5 minuti proprio soltanto per far sciogliere la mozzarella ed eccola pronta due foglioline di basilico fresco ed è pronta da gustare ed anche la seconda teglia è pronta questa volta invece farcita con speck brie e noci e zucchine cotto e mozzarella adesso vi faccio vedere anche l'interno e nel frattempo vi saluto vi do appuntamento alla prossima ricetta e mi raccomando se questo video vi è piaciuto mettete like condividetelo e iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima grazie a tutti